I sentieri del bosco sono tappeti di foglie di faggio, questo è il sentiero che parte dalla fontina della forestale, sopra cimitero e poi piano piano va fino alla bandiera e tronchi tagliati, io sono venuto da quassù, sopra c'è il sentiero dei bovi, che è la strada, il sentiero è tutto lastricato e vengo dalla casetta di lapo, ora scendo dai tronchi tagliati e vado a prendere la macchina che è giù alla secchia vicino al cancellino.